Con il folklore si aperte alla terza giornata della settimana di protagonismo della Calabria Expo 2015 dedicata ai tre parchi nazionali della regione. 340 mila ettari divisi tra Pollino, Sila e Aspromonte, teatri di alcuni tra i più suggestivi paesaggi della montagna mediterranea con decine di specie protette e una biodiversità espressa anche da una specifica gastronomia. Parliamo di parchi e cibo perché i parchi sono luoghi in cui si produce cibo di qualità quindi è importante sottolineare questo aspetto e sottolineare l'aspetto che cibo vuol dire cultura quindi preservare le produzioni tradizionali e no gastronomiche significa anche preservare e valorizzare la cultura dei parchi. Prodotti come il caciocavallo di Ciminà, la carne podolica, la lenticchia di Mormanno che raccontano un territorio e la sua gente ma anche il rinnovato interesse della regione Calabria per le aree interne e il turismo e no gastronomico. Qui a Milano abbiamo presentato il progetto la banca delle qualità del Pollino che abbiamo realizzato con la fondazione simbola di Ermete Realaccio e Fabio Renzi e insieme allora abbiamo tirato fuori le prime 100 eccellenze del parco, produttori, produttori soprattutto della filiera dell'agroalimentare di qualità ma anche attività di servizio e di supporto alla logistica dell'ospitalità diffusa e della ristorazione tipica.